Continuano correnti fredde nord-atlantiche sul nord Italia, in grado di portare fenomeni nevosi fino a bassa quota. Da sabato la pressione sarà in aumento, il sole tornerà a splendere anche sul Vicentino, i valori delle temperature saranno pienamente invernali. Venerdì inizialmente il cielo si presenterà sereno e poco nuvoloso, le nubi giungeranno sul Vicentino in tarda mattinata a partire da ovest. Tra il pomeriggio e sera un modesto peggioramento porterà qualche debole pioggia e pioccate a partire dai 400 metri. Sono attesi 0,3 mm di pioggia, altrettanti centimetri di neve oltre i 600 metri. Gelate in pianura nel primo mattino, sabato ampi rasserinamenti in mattinata. Anche nella seconda parte della giornata splenderà il sole, temperature stazionali e domenica altra giornata di sole su tutta la provincia. Ad offuscare il sole sarà solo qualche possibile velatura, clima ancora invernale, estese gelate notturne a tutte le quote. Ad inizio settimana l'alta pressione si rafforzerà ancora di più portando clima stabile e soleggiato. Tuttavia sarà possibile formazione di nebbia in pianura per effetto dell'inversione termica. Sui rilievi le temperature saranno in aumento.